Vabbò, facciate, fammi questo rovo. Non è possibile. Ui, guarda che, un uomo di poca fede, non mi gridi. Ma non è, ma! Ui, maggi tu cade, sono di carne tosse. E l'ho capito. Marone, che so bene. So popose, l'ho capito. So popose, andiamo, dai. Diciamo, non è possibile, perché mia moglie vuole andare a teatro. Iii, ui, ma cos'è scemo? E ti facciate il compito, no? Te se ne va. E noi tu andiamo con quelle due popose. Andiamo, facciamo, tu sei scemo, tu sei scemo. Perché sono scemo? Vuole andare con me a teatro, no? Cretino. Ehi. Annaccia, la miseria. E allora il problema c'è. Io sono con quelle due marone. E come ci fai? E sai che faccio, Andrì? Eh? Mi sacrifico pure per te. E vado con... No, no, no. Vieni qua che ci voglio venire pure io. Bra! Così, abacaccia il... Termate un attimo qua. Dimmi, che ti... Bisogna, bisogna trovare un escamotage. Aiutami a trovare un escamotage. Dai, dai. Hai capito? Qualcosa, qualcosa. Bisogna... Un escamotage che... Ma dove stai cercando? Ma dove stai cercando? Eh... È che non è... In terra? È un uccello. Ma che uccello? Allora lo trovo su. Ma non è un uccello. Cretino, sai cosa significa escamotage? Eh, no. Significa una scusa. Un qualcosa che mi aiuti a venire con te invece che andare con lei. Capito? Ma perché ne hai detto prima? No, mi dice in italiano. Mi dice scusa. E ho capito. Scusa, vabbè. Senti. Ho trovato. Ho trovato. Meno male, meno male. Eh, che hai trovato? Che hai trovato? Scriveremo una lettera anonima. Andrì... Ma che ne freve? Perché? Ma come si stanno aspettando quelle due donne? Carne d'ossa. Popose. Popose, capito? Tu vuoi stare a scrivere una lettera anonima. La posta su anonima. Chi è? Chi è? Madonna quanto sei ignorante. Anonimo è uno che non si conosce. Ma chi la scrive a fa' lo? Oddio. Io faccio finta che la scrive... Senti. Tu fai cos... Mettiti qua. Siedi, carta, penna. E scrivi. Io ho detto, tu scrivi. Ma non andrì, basta che fai un presto. Ma andrì, c'è la mia... C'è la mia... C'è la mia... C'è la mia... Forza. La data. Quando? Oggi. Pazzo. Cornuto fresco. Oggi, 23 ottobre 2011. Cornuto. È preciso. Allora. Eh, mio caro amico. Bello che si inizia. No, no, no. Ah. No, no. Caro amico mio. Eh, è uguale. Comunque è bello stesso. No, no, no. Caro amico. Sì, bello. È il mio, dove lo metto? Eh, ho sa cito, te lo devi mettere. Fam presto. Allora. Ti informo. Ah. Ti informo. Ti informo. Ti informo. Ti informo. Ti informo. Con tre zampe. Ah, un po' le mezze. Ti informo. Che. 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 Ti informo. Tua moglie. Tua moglie. Tua moglie. Eh. Tua moglie. Come proviamo a pronunciare? No, moglie. Moglie. Moglie col GL. Dai. Ah, cagnata macchina. Che. Tua moglie. Tua moglie. Adesso ci servirebbe una parola che faccia effetto. Eh? Ah, devi far qui. Fal qui. Eh, chi le fa effetto? Ma che schifo. Ma no, no, no. Siedi. Una parola. Una parola che faccia colpo. Hai capito? BOMBA! Eh, che è? Eh. Ma che è? Fai te BOMBA! La parola che faccia è BOMBA! Ma no, no, no. Oddio. Ma, senti. Non in quel senso. Una buona donna che stai qua. E' ignorante. Mamma mia. Va bene. Ho trovato la parola. Ho trovato la parola. Va bene. Che tua moglie ti tradisce. Eh? Chi che zocca, eh? Ma chi? Oh! Eh, Andrè. Come se la facessi a me? Io poi l'amicizia ci conto, eh? Ma come ti permetti? No, io non ce la faccio. Ma è per finta. Eh, eh. State attenti. Non teni che le dicono sempre così, per finire. Eh, bel po' mamma mia. State attenti a portare sotto il porto. Non se c'hai, vissi, mai. Che ti tradisce? Adesso ci mettiamo questa parola, no? Ti tradisce ignominiosamente. Quello hai capito? Che... La sai scrivere? Eh, ci sto provando. Eh, ci sto provando. Che fai il corso, fai... Scrivi, eh? I-gno-mi-no-ta. Eh, hai già pensato a tuo amore? Una sorta, dai pensato... Scrivi quello che ti ho detto io. I-gno-mi-no-ta. Senza ta, senza ta. Eh, com'è? Ti ho detto prima, no? Ta. È separato. I-gno-mi-no-sa, senza ta. Sì, metti la mano. Eh, metti la mano, metti il tuo piede. Sì, hai mangiato la mano, ok? I-gno-mi-no-sa-mente. Eh, ecco, ha già scritto. Amma mia. I-gno-mi-no-sa-mente. I-gno-mi-no-sa-mente. Con un altro uomo. Con un altro uomo. Con un altro uomo. Due uom. Ti tradisce con un altro uomo. Tre uom. Ma che stai dicendo? Uè, non ci appare che la cosette di tua moglie. Ma che c'è da? Ah, ci capite? Una volta solo con tre uom. Ma no una volta solo con tre uom. Eh, una volta con un uomo solo. Ah. Con un altro uomo. Eh, porca miseria, ogni volta. Andiamo avanti. Adesso. Adesso andiamo avanti, su. Andiamo avanti, mamma mia. Non sta facendo. Ti tradisce con un altro uomo. Che è successo? Andiamo avanti, eh? Ma no, tu! Con la lettera! Andiamo avanti con la lettera! Sì, non ce li capisci che sei mamma! Come hai scopato! Sei cretino! Andiamo avanti con la lettera! Madonna! Quando lo caccia è troppo tardi! No, con la lettera! Nel senso a scrivere la lettera! Ti devi sedere! Che non ce capisci! Andiamo! Sei un imbecille! Pronto! Quando ti facciamo un presto! Quelli ci stanno aspettando, se ne vanno! Mannaggia! Se sei tu, sei un imbecille! Un maronno mio! Paggia! Scusa! No! Maggio offese! Paggia quando... Non ce la faccio, Anna! No! Scusa! Eh... Maggio offese! E qui quando mi offende non ce la faccio, Anna! Mi prendo proprio un blocco! Non ce la faccio! Scusa! Maggiarici! Scusa! È la parola che devi scrivere! Ah! Sono scuse letterarie! Eh! Che ti chiedevi... Scusa a te! Eh! Non puoi... Ma per favore! Non puoi... Non puoi... Non puoi... Scusa! Ma... Intendo mantenere l'anonimato... Sì, a meno... Capisci, capisci! Che quando... Ma che schifo è questo, scusami! Ma che stai facendo? Ah, no! Minato! Ma no, la non mi... Mamma, non ti... Ma perché... E così hai detto tu? Anonimato! Tutta una parola! Ah, tutta attaccata! Tutta attaccata! Dai, scrivi! Quindi, non so se ce la faccio! Ci prova, addirittura! Anon... Non ce la faccio, Anna! E come è? Sutta fuori! Ma che schifo stai facendo? Ci ha provato con tutto il cuore, ma non ce la faccio! Ma stai buono! Ma che stai facendo? Anonimato è la parola! A-N-O-N... Anonimato! Ah! Sei un beota, sei! Eh! Ne ho! Andrei, a mio beota non mi ha detto mai nessuno! Io adesso mi vado... Mi vado a informare! Vado a leggere un coppaggio con lo pede, no? Ma ti dico se è quello che dico io! Qui, Andrei! Io non sono più dentro i miei panni! Perda pazienza, mi stanno... Ho sangriendo la capa, eh! Sopra la capa, sotto, sopra, sopra, sotto! Mi stanno nebbendo tutti gli occhi! E non sace chi c'è stato di fronte a me! Può essere un parente, un amico, e tutta una sola! Non ce la faccio, ma un cazzo! Veramente! Ehi! Hai finito? Eh, sì! Andiamo avanti, per favore! Grazie! Ah! Nella domanda, l'hanno animato, firmato un amico! Marco... Leandro... Leandro... Andrizz! E chi è? È un mio amico! Ma non devi scrivere... Un amico! Un amico che conosci! Devi scrivere un amico che non conosci! Ah! Pep... Marigliani... Chi è Pep Marigliani? Non lo so, non lo so! Mamma mia! Vabbè! Vabbè! Senti! Facciamo così! Prendi questa lettera e mettitela... Ehi! Che è? Mettela lui nella... Io sono Gerusalemme... E cose micche! Fammi a fare questo favore, ah! Mamma mia, guarda, guarda queste che cosa pensi! Cretino! Stavo dicendo, prendi la lettera e mettila in un posto sicuro! Ah! Per nascondere! Per nascondere! In un posto in cui nessuno mette le mani! Capito? Sì, ne molte faccio vedere... Ecco qua, eh! Oh! Oh! Ma che stai facendo? Ma non ci mette nessuno! Ma che me ne frega a me se ci mettono le mani! Mamma mia! Va perché... Sì! E ti te la insaccoccia, tasca! Dietro qua, eh! Va bene! Dietro, avanti! Ok, adesso tu, adesso tu, senti, troviamo la parola d'ordine prima, ok? Troviamo la parola chiave, troviamo la chiave, troviamo la chiave, troviamo la chiave e così... Come quando andavamo a scuola, fino a capa perdi sempre tutto, perdi tu, e chiave stanno qua, e qua, lì, 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 la parola chiave, oddio, perché... Senti, prendi sta cacchio di lettera, ti metti nascosto là dietro, quando io dico, ah, quanto è buono questo caffè che c'è mia moglie, tu vieni qua e fai, c'è una lettera anonima per te, hai capito? È facile. Tu, e ti da, poi, vieni qua, c'è una lettera anonima per te, io, ah, quando vuoi lo questo caffè, hai capito? È facile, hai capito? Dai, ecco, dai, hai dato! E ti da, 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 Amore! Amore, ecco il caffè! Uh, che cara, grazie tesoro, grazie. Il caffè. Ah, quanto è buono questo caffè! Mi fa piacere, amore. Certo. Sei scema, però, assaggi un'altra volta. Ah, quanto è buono questo caffè! Bene, amore. È proprio buono, che l'ho bombato un attimo in al caffè. Ah, che è persù? Quanto è buono questo caffè! Uh, è buono, fatemelo bene un po', un po'. Eh, è bellissimo, ciao! C'è, 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 c'è una lettera, 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 c'è una lettera per te! Ehi, oi, una lettera anonima, chissà chi l'avrà scritta. Andre, eh? Ui, te l'hai scritto? Eh, ma sarà qualcuno, eh? Uno che è un amico, era un amico, che apprezzo a questa cosa. Adesso, una lettera anonima, leggiamo, scusa, cara. La data cornuto oggi, cornuto fresco e preciso, 23 ottobre 2011. E si parla, è forte. Caro amico mio nonno no, mio caro amico nonno no, caro amico, è il mio dove te lo metto? Ti inforno un pollo e mezzo, che tua moglie, col GL perché ha cambiato macchina, ti tradisce! Mi tradisci? No! Mi tradisci? No, 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 aiutami! Tu perché rompesti il tavolo annunziato? Tu perché rompesti il tavolo annunziato? Annunziato ai soldi. Tu, donna fedifra che è concubina! E tu donna fregorifra dentro la cucina! Tu donna indegna! Tu donna insegna! Ma maestro fa! Ma stai zici! Io ti credevo Cornelia, la mamma dei Gracchi! Io ti credevo Carmela, la mamma dei Gracchi! E invece non sei neanche messalina! E invece non sei neanche cicciolina! Altro dirti non posso perché ho un nodo nella strozza! Altro dirti non posso perché sei... Sei la strozza! Tu mi hai tradito! No! 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 No!